ciao anima speciale giro questo video in maniera estemporanea sono appena andata live come di consueto le ore 9 ma mi è venuto proprio l'impulso e gli impulsi partono dagli stati ti dicono non vi aggiro la 3d spippolando sempre ste cose scopiazzate da 2020 in avanti che in realtà ve lo dico sono la cozzaglia di assunti tossici che vengono dalla vecchia loa che si sono frameschiati con la legge di assunzione le reazioni vengono dagli stati dai significati ok questo è la legge lo stato comanda la 3d dipende qual è il significato che determina il tuo stato che ti fa reagire in quel modo perché in un modo dall'altro you guys stiamo sempre reagendo se tu stai reagendo da uno stato di victim mentality mentalità da vittima un conto e l'ho già spiegato è un qualcosa di neurofisiologico che non pertiene ai livelli corticali superiori ma se tu reagisci sapendo quello che stai facendo anche se comunque attiva la reazione della parte primordiale primitiva del nostro sistema parte rettile è un altro conto perché è un altro significato ed è il significato che determina quello che proietti ora io sono andata live questa mattina alle 9 ma prima ancora ho lanciato un post che si intitola bifede in tab community arriva paolo ciao paolo che dice a mio modesto parere ti ringrazio per la modestia le affermate però quindi sta affermando le affermazioni non servono molto ma sono molto più efficaci e potenti le visualizzazioni perché il nostro cervello non distingue da ciò che è reale ciò che è immaginato ma va là lo sappiamo tutti che è l'immaginazione che detta legge immagina tu paolo venga da non dalla legge di assunzione e quindi sono molto arrabbiata quando arrivano questi commenti perché danno fastidio a chi il lavoro lo sta facendo e come stanno realmente le cose pertanto mi limito a leggere la mia risposta perché conosco le risposte siamo tutti proiezioni l'uno dell'altro ma non c'è un solo potere operante nella realtà e questo è il mio canale e quando dico qualcosa so bene quello che dico se no non lo dico se no resta in silenzio ciao sei nuovo paolo non credi forse al potere delle parole non credi forse al potere delle parole se ancora non lo conoscete ancora lo conosci andate a leggervi che siete tanto veloci la storia del monaco del samurai la conoscete quella storia no? beh allora conoscetela così vediamo tutto questo canale tutto il mio impegno la mia energia il mio tempo è molto altro ancora ti spiega nel modo più semplice possibile elementare Watson che è più bianco non si può odio santo che tu puoi fare medivisual visualizzazioni saz fare scripting molto molto altra ancora e se queste cose funzionassero per tutti tutti avrebbero il loro desiderio sarebbe ok è giusto correggimi se sbaglio se sbaglio mi correggerete la fede il sapere che è tuo non include nessuna visualizzazione ci sono infiniti modi per manifestare la manifestazione con la legge di assunzione sta nel fatto di sapere che è già tuo punto quindi non devi nemmeno fare visualizzazioni puoi fare medivisual visualizzazioni saz scripting conversazioni interiori puoi anche fare una sessione di affermazioni certo ma se non hai una dieta mentale sul pezzo vale a dire se le tue affermazioni robotiche non sono tutte allineate col tuo desiderio la tua visualizzazione che hai fatto ieri nel letto con la tua compagna o tutto quello che vuoi la nuova casa guess what magari si materializza ma tra 5 anni tra 10 anni invece le affermazioni robotiche sono la tua dieta mentale boom 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 è così è così è così è così manifesti a velocità elevata ma non è solo questo ci sono altre implicazioni a volte la gente visualizza anche in prima persona e poi i risultati vanno a finire a terze parti perché non sta lavorando su una dieta mentale sull'autoreferenzialità cioè sono veramente io chi ti dice che la visualizzazione che stai facendo sei veramente tu la persona che vede sia che visualizzi in prima persona dal primo punto di vista che in terza persona ho penato per oltre 4 anni con questa cosa per questo sono così accanita come è stato per la mia volvodinia 12 anni di dolore e nessuno sapeva aiutarmi i luminari non sapevano non sapevano niente non sapevano cosa fare con lei non ha niente fai la visualizzazione e ottieni tutto è un'affermazione mi senti che sto parlando non sto visualizzando sto parlando e le parole comandano le affermazioni robotiche sono i tuoi pensieri il tuo flusso di coscienza in che lingua ve lo devo dire con i sottotitoli in aramaico antico ve lo dico ancora una volta quello che pensi affermi quello che affermi pensi pensi continuamente dai 60 agli 80 mila pensieri al giorno ogni giorno un totto dei quali sono dedicati a un singolo argomento se stai manifestando la tua persona specifica già l'abbiamo detto milioni di volte lo ripeteremo milioni di volte perché ripetita io avanti sono parole pensi affermi hai un flusso di coscienza sono è un monologo interiore ti torna a senso è più chiaro ma non è solo questo ancora è ovvio che quando io dico un qualcosa lo dico con contezza so quello che dico se no non lo dico once again la fuffologia le stupidaggini le lasciamo agli altri non su questo canale non è un'opinione è come funziona il cervello vieni qui a spiegare a noi che ciò che visualizzi il cervello non lo distingue tra realtà immaginate e realtà reale ma va là è come se vai dall'insegnante di latino e gli spieghi il latino cioè in principio era il verbo e il verbo si fece carne Dio disse sia la luce la luce fu adesso non tra cinque anni il cervello quando tu affermi l'emisfero destro che è deputato alla visualizzazione automaticamente quando dici abli ablameluna dici una frase vedi un'immagine i pensieri creano i pensieri sono le tue affermazioni affermazione e pensiero sono sinonimi sono la stessa cosa sono le soggetto verbo complemento che continua tututun 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 hai scritto delle parole sono parole sono immagini ma richiamano delle immagini io qui creo tantissime medivisual subliminali paraliminali c'è tutto quello che è possibile creare e anche quello che non è ancora stato pensato verrà prodotto vengono tappati tutti i buchi qui le uso tantissimo e uso tutto il vacca visivo uditivo kinestesico uditivo digitale and more il sesto senso pensa che c'è gente che fa fatica a visualizzare poiché il visivo non è il suo canale preferenziale primario di elaborazione delle informazioni ma parla e parlo anche spiego anche del momento preverbale prima che imparassimo a parlare come esseri umani perché la parola è quello che distingue un essere umano la doppia articolazione del linguaggio umano per chi ha studiato all'università col migliore linguistica generale anno 2000 con Tullio De Mauro la sapienza e non altre chiacchiere fufologie psicotropale lo sa quando guido le persone mi impegno per dare loro il meglio quindi non posso accettare commenti che vengono a spiegare come funziona da chi lo sa meglio di te io posso visualizzare di essere in un posto meraviglioso con la persona che amo ma se non ho delle affermazioni e non parto da un self-concept di autoreferenzialità e non ho lavorato su il self-concept corretto della coppia e guess what il mio sistema nervoso si alerta e dice sei veramente sicura di essere tu non è che stai manifestando per altri proprio in questo momento e queste sono parole ok questo è un video girato proprio stemporaneo se non ti piace la mia vibe se non ti piace la verità con la V maiuscola quello che assumi va e l'assunzione è la parola vatti a cercare la storia del monaco e del samurai perché il monaco insegna il samurai perché il samurai gli viene a chiedere monaco voglio sapere raccontami tutto dell'inferno del paradiso vattela a cercare io ti aspetto alla prossima ciao ciao